benvenuti sul mio canale io sono il gabriel oggi siamo qui per il mega confrontone ft tc vodafone prima e dopo infostrada prima di tutto partiamo dalle offerte allora vi parlo innanzitutto di vodafone vodafone fornisce come modem una vodafone station revolution velocità 50 10 quindi 50 megabit in download e 10 in upload chiamate a pagamento e infine una sim da un giga lato infostrada invece abbiamo come modem il dlink 5592 poi la velocità ovviamente non comparabile perché con infostrada non c'è diciamo un piano base un piano super con velocità differenti infatti qui ho la 200 mega in down e 20 mega in up le chiamate anche qui sono a pagamento infine ho una sim da 100 giga la differenza già qui si nota un bel po parliamo comunque di periodi differenti offerte differenti anche se guardandole anche ora non sono cambiato molto andiamo in dettaglio a vedere quali sono i veri costi il canone il canone per vodafone era di 29 euro mente con infostrada sia un canone di 22 euro e 90 centesimi poi le chiamate le chiamate sono a pagamento come vi ho già detto prima in entrambi i casi in vista in vista invece è una funzionalità diciamo legata sulla infostrada che vi permette di vedere i numeri che vi chiamano questo costa due euro mentre con vodafone è tutto incluso poi velocità massima con infostrada ovviamente non ci sono costi di velocità massima andata a 200 e basta mentre con vodafone parliamo di un aumento di 5 euro dopo il dodicesimo mese in caso ovviamente non accettate questo costo la velocità verrà ridotta a 20 m down e 3 in upload sempre in ft tc quindi da una parte parliamo di un'offerta da 29 euro fino al dodicesimo mese che poi sarebbe aumentata come canone base a 37 più i 5 ovviamente per mantenere la velocità massima dall'altra parte invece parliamo di un'offerta che costa 22 euro e 90 più i due di in vista aggiungeteci anche gli 0 70 0 60 centesimi per la fattura digitale costo al mese quindi siamo sui 25 50 al mese e qui abbiamo già un vincitore ma ripeto si parla di periodi completamente differenti quindi alla fine confrontare queste due offerte non ha molto senso diciamo andiamo invece a vedere le cose interessanti partendo dai benchmark benchmark legati a diverse cose partiamo con l'accensione dei nostri modem vodafone station revolution tempo misurato siamo sui 45 minuti perché si inizializzi e perché sia pronta per farvi navigare di link 5592 si parla di un minuto un minuto e trenta qui vince alla stragrande infostrada e il suo di link ora andiamo invece a vedere il wifi innanzitutto vi parlo delle stesse impostazioni su entrambi i modem a 2.4 sul terzo canale banda 20 megahertz la 5 gigahertz invece canale 48 e banda automatica in entrambi i modem la potenza invece nel caso del di link è stata messa in automatico è stato collegato solamente un apparato alla rete in entrambi i casi dei test e questo questo dispositivo è il mio cellulare ovvero il moto g5 plus partiamo dal primo test il primo test l'ho fatto dal divano messo a circa 3 metri e mezzo dal modem con l'applicazione di netgear analytics nella sezione di potenza del segnale ci indica che siamo sui meno 42 decibel milliwatts sotto la rete 2.4 mentre sulla rete 5 gigahertz siamo sui meno 50 come segnale abbastanza buono in tutti e due casi ma si potrebbe fare di meglio ho piena copertura wifi con tutte le tacche in entrambe le reti passiamo invece a fare lo stesso test con infostrada sempre a 3 metri dal modem sempre sul divano ragazzi abbiamo meno 38 decibel milliwatts sotto al 2.4 gigahertz mentre ne abbiamo meno 47 sulla 5 gigahertz quindi abbiamo un segnale poco più potente rispetto alla vodafone station revolution anche qui abbiamo piena copertura con tutte le tacche in entrambe le reti i risultati quindi del primo test sono che il segnale più potente con infostrada e la copertura è la stessa andiamo invece a vedere il secondo test il secondo test è effettuato dalla parte più lontana del mio appartamento sempre dentro il mio appartamento e parliamo di circa una distanza di 9 10 metri di linea d'aria ci sono diversi muri in mezzo e con vodafone e la vodafone station revolution abbiamo sulla 2.4 meno 67 decibel milliwatts mentre meno 79 sulla 5 gigahertz in media diciamo che a livello copertura si sta sulle 2 bar 3 tacche sulla 2.4 gigahertz e una barra 2 sulla 5 gigahertz passando invece l'infostrada siamo sempre sullo stesso punto di prima questa volta abbiamo un segnale di meno 68 decibel milliwatts sulla 2.4 e meno 70 sulla 5 gigahertz in media a livello copertura si sta anche qui sulle due tacche due tre tacche sulla 2.4 e due sulla 5 gigahertz quindi il risultato di questo secondo test è che il segnale è di poco più potente anche in questo caso con infostrada e la copertura pure qui è simile questi sogni test che ho effettuato tramite wifi potete ben capire che ci possono anche essere altri variabili in gioco e tutto ciò significa che infostrada ha vinto anche il secondo benchmark voglio ricordare che le condizioni di wifi non sono state le medesime perché possono esserci casi in cui compaiano nuove wifi che disturbano di più o di meno quindi questi risultati prendetele con le pinze ma da quanto abbiamo visto probabilmente è più potente il modem di infostrada ricordo hardware di anni completamente diversi la vsr è stata rilasciata all'incirca nel 2014 il dlink dovrebbe essere stato rilasciato nel 2017 2018 ora andiamo a vedere la parte interessante che credo interesse a molti di voi ovvero il ping il ping pure qui ci sono moltissime variabili in gioco dai propri dispositivi alle classi dp che vi vengono diciamo fornite al traffico presenti in rete quel determinato momento quindi anche qua dobbiamo andarci cauti nel vedere i risultati questi test sono stati effettuati con una rete cablata dallo stesso computer fisso all'incirca agli stessi orari ovviamente le classi dp sono differenti da una parte abbiamo un 2.37 dall'altra abbiamo un 151.57 che a me e a voi poco importa prima di partire voglio ricordarvi che sono stati fatti più test per avere una media su questi ping quindi non vi preoccupate non ho preso uno a caso mentre scaricavo da torrent voglio inoltre ricordare che al momento di questi test non vi erano programmi decisamente pesanti per la rete aperti non erano presenti altri dispositivi connessi alla rete solamente il mio computer con i programmi di default partendo con vodafone ping test sul server di milano google milano abbiamo riscontrato 16 millisecondi da parte di vodafone mentre 22 dal parte di infostrada passando poi la palla serve di google franco forte abbiamo riscontrato 25 millisecondi con vodafone e 35 addirittura 35 con infostrada stiamo già parlando di un aumento di 10 millisecondi e infine arrivando sempre a un server di google questa volta situato a londra abbiamo 38 millisecondi lato vodafone e 50 al lato infostrada poi andiamo invece sempre su milano con un server di gameservers.com questo server utilizzato per call of duty world world 2 abbiamo 18 millisecondi sul primo caso quindi su vodafone 22 invece su infostrada come avete ben capito su milano il ping rimane sempre quello anche cambiando server siamo più o meno sempre lì abbiamo 18 e 22 andando invece a vedere sempre un server di call of duty world war 2 in francia abbiamo 34 millisecondi lato vodafone e 35 lato infostrada procedendo poi con un server di amazon web service franco forte abbiamo 26 millisecondi su vodafone 44 su infostrada sempre amazon web service irlanda abbiamo 47 millisecondi con vodafone 62 con infostrada come potete ben capire gli stradamenti di infostrada non sono un gran cover sull'europa e verso il nord europa dove ci sono situati la maggior parte dei server quindi questa volta vince vodafone conclusioni cosa voglio dirvi innanzitutto questo cambio di operatore l'ho fatto soprattutto per una questione di costi perché con vodafone il prezzo era diventato ingestibile ormai siamo arrivati quasi a 35 40 euro per una 50 megabit quando alla fine per 25 o meno la offrono anche altri operatori ad infostrada ora molta banda in download e anche un po di pin upload quella che mi serve maggiormente ma alla fine sono comunque contento perché non ho tutta questa necessità punto forte secondo me di questa offerta la sim da 100 giga così non sono obbligato a sottoscrivere un contratto con una mia sim sul mio cellulare posso navigare tranquillamente con 100 giga dove mi pare sì è vero non ci sono minuti per chiamare però bisogna un po equilibrare le cose diciamo come abbiamo visto i benchmark infostrada vince per 2 a 1 diciamo che sulla cosa che mi interessava un pochino di più purtroppo infostrada non ce l'ha fatta ovvero gli stradamenti verso l'europa ora non so dirvi se è un problema della mia zona o di qualche stradamento fatto male nella mia zona perché tengo a precisare che con infostrada nella maggior parte dei casi io ho visto dei ping inferiori rispetto a vodafone nel mio caso sono l'unico ad avere più millisecondi rispetto agli altri utenti della rete voglio aggiungere un oltre una cosa che lato wifi secondo me questo di link va peggio della usr non so perché più in copertura che in velocità noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi l'unico riscontrato sono anche gli unici problemi riscontrato sono lato wifi e ping niente per il wifi mi sembra che dai ma non puoi battere due secondi e smettere quanti cazzo di chiodi stai mettendo